Sono Mauro Franchina e vengo dall'Italia e sono il sales manager di Made in Steel, che è il fai più importante per l'Europa sud e la seconda più importante per il mondo, che si concentrava solo sul fai. Sono qui grazie alla invitazione dei ragazzi delle fai. Sono qui per migliorare i miei conosciuti riguardo alla industria korea e per provare a migliorare la nostra relazione. Sono molto felice di essere qui, come ho detto prima. Sono qui grazie alla invitazione dei ragazzi delle fai. e con loro stiamo cercando di migliorare le nostre relazioni e cerchiamo di ottenere un accordo in modo da lasciare i ragazzi invitano i più giocatori della industria korea in Italia per la mia esibizione. La mia aspettazione riguardo a questo fai è stata abbastanza buona e posso confermare i sentimenti di questo fai. è piccolo, ma molto ben gestito. I ragazzi, gli organizzatori, sono ben preparati e mi hanno presentato a tutti i grandi produttori e distributori qui in Korea. Sono anche ben impressionato sulla presenza di due giocatori come Hyundai e Posco e ho avuto l'opportunità di metterli e ho cercato di invitarli direttamente alla mia fai del prossimo anno in Milena che mi ricordo di un'altra volta che mi raccoglierebbe in mezzo al 14 fino al 16 di Milena per la mia aspettazione e la felicità dei ragazzi delle fai mi permette di trovare altri giocatori da mia aspettazione come l'instituto korea della scienze materiale in fronte di me e probabilmente anche loro vorrebbero partecipare a parte della mia fai. Beh, per essere francamente e sicuramente direttamente al punto sono abbastanza soddisfatto con il mio presente anno in questa piccola ma meravigliosa fai e sono abbastanza soddisfatto di aver incontrato persone come i ragazzi dell'organizzazione dell'organizzazione di questo meraviglioso evento grazie a tutti e ciao Bye!